Poco la mezzanotte, quando con oltre il 90% delle schede spogliate, Viktor Orban si intesta la vittoria delle elezioni politiche che si sono tenute questa domenica in Ungheria. Al potere dal 2010, il primo ministro ultraconservatore filoputiniano, unico nell'Unione, inizia il suo quarto mandato facendo l'elenco dei nemici. In questo include il presidente ucraino. Abbiamo combattuto forze imponentissime, la sinistra ungherese, la sinistra internazionale, i burocrati di Bruxelles, tutte le organizzazioni dell'impero Soros, i media mainstream, internazionali e infine anche il presidente ucraino. Non ho mai avuto così tanti avversari. L'opposizione ha raccolto il 34% dei voti nonostante gli sforzi di ben sei formazioni unite insieme per sconfiggere Orban. Il capo della coalizione, Peter Markizai, non ce l'ha fatta nemmeno nel suo collegio elettorale. Il partito di governo, Fidesz, insieme ai cristiano democratici, raccoglie invece oltre il 54% dei voti, pari a 134 su 199 seggi parlamentari. Una maggioranza schiacciante è la stessa che ha permesso ad Orban nel corso degli anni di ritoccare la Costituzione e il diritto di famiglia a mutolire i media d'opposizione, sempre sotto la lente di Bruxelles, anche in queste settimane di conflitto, quando Orban ha detto che l'Ungheria resta fuori dalla guerra, contro l'invio di armi a Kiev e l'estensione delle sanzioni contro la Russia al settore energetico. Ma il voto è stato regolare? La coalizione Voto Pulito, che riunisce quattro ONG ungheresi, ha fatto sapere di aver ricevuto numerose segnalazioni di irregolarità.